ciao a tutti oggi video tutorial in collaborazione con il sito fantasy di manuela vio per la precisione questo è l'ottavo video collaborazione oltre a tre video acquisti che se guardate sul canale trovate ringrazio innanzitutto manuela per la possibilità appunto di utilizzare suo materiale per fare questi video ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al canale che stanno guardando i miei video e a quelli che si iscriveranno allora vi faccio vedere subito la creazione è questa qua è un ciondolo creato da con dall'unione di due modulini che volendo potrebbero anche essere tranquillamente realizzati singolarmente con o senza nappina e creare appunto dei piccoli orecchini abbiamo incastonato delle gocce con la tecnica peyote e creando appunto la punta perché abbiamo incastonato una una goccia due gocce in realtà non ho ancora dato un nome alla creazione la vedrete poi nel titolo del video così come vedrete sotto nell'info box il codice sconto nuovo per il prossimo periodo che manuela appunto mette a disposizione per tutti i suoi clienti allora partiamo subito con i materiali dopodiché vi lascerò al tutorial fotografico allora abbiamo incastonato due gocce due rivoli a goccia 10x14 nello specifico io ho usato le colorazioni paradise shine e heliotrope che sono appunto queste paradise shine è questa colorazione con il giallo l'arancione e heliotrope è un fucsia con l'interno verde bellissimi sono articoli che sono stati introdotti nel catalogo da poco sono molto belli vi consiglio di andare sul sito di manuela e vedere tutte le cosine che ha poi ho usato delle to 11 e 0 in due colorazioni le inside color sail on gladiola che sono queste che è una tonalità di viola per il primo modulino questo qua e poi per il secondo invece ho usato queste che sono le sail on light sea green eccolo qua ed è una colorazione appunto su verde turchese poi per chiudere per stringere l'incastonatura ho usato delle 15 0 sempre della to e nello specifico le opac lastered pal move che sono queste eccole qua per il modulino quello più alto mentre invece per il modulino quello più in basso le sail on smoke sempre appunto della to 15 0 voi potete realizzare tranquillamente i due modulini con la stessa colorazione oppure con colorazioni diverse comunque il risultato è bello sicuramente allo stesso modo per entrambi i modulini ho usato delle super duo della stessa colorazione che è questa qui le pearl shine autumn leaf eccole qua molto belle e poi ho usato due colorazioni di cristalli due per tre che sono la aspettate una deve essere il giallo chiaro e l'altra il spettacolo ottanio ottanio a b e l'altro giallo chiaro trasparente a b anche questo le faccio vedere da vicino sono bellissime queste colorazioni con le sfaccettature a b che sono veramente veramente belle poi metalleria ho usato questo porta charme in color dorato eccolo qua ago e filo come potete usare il filo che volete ovviamente quello che avete quello con cui fate meglio e poi dimenticavo la nappina in poliestere azzurro 18 mm adesso vi sposto un attimo il materiale vi faccio vedere bene che vi spiego velocemente un po i procedimenti cioè un po così insomma al volo ecco poi vi lascio ben bene al foto tutorial che vi spiega tutti i passaggi vi faccio vedere un pochino meglio ecco qua allora guardate la decorazione è molto semplice la lavorazione molto semplice sono partita appunto dall'incastonatura la goccia del rivoli con due file le cinque classiche cinque file contate in diagonale delle 11 0 e le due file davanti e dietro delle 15 0 ho chiuso a punta con le 11 0 appunto per fare dare proprio la forma dopodiché sono passata alla decorazione con le super duo poi i mezzi cristalli due per tre e le 15 0 sui ma creare dei piccoli picò sopra alle super duo ho unito poi i due modulini con le 15 0 ho creato un cappietto sotto con le 15 0 per la nappina e nella parte alta ho creato una fascetta ho avuto un po di difficoltà a creare questa fascetta perché inizialmente la volevo fare con due 15 0 una fianco l'altra ma poi non passava per il foro ho provato con una 11 0 anche questo non passava e alla fine insomma l'ho fatta in questo modo con una 15 0 una fila di 15 0 partendo diciamo con il collegamento nella parte scusate nella parte anteriore del picco della punta e collegandomi nella stessa super duo dietro creando appunto un'altra questo allaccio con le 3 15 0 è comunque molto semplice nelle foto poi ho segnato tutti i passaggi se avete dei dubbi potete tranquillamente scrivermi io vi spiegherò quello che non è stato chiaro adesso vi lascio al tutorial fotografico e grazie per la visione ciao a presto grazie a tutti 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 Grazie.